Le cose a cui fare attenzione quando si avvicina al termine della gravidanza sono fondamentalmente tre. La prima è imparare a riconoscere i movimenti del bambino. Normalmente intorno alla 38esima, 39esima settimana il liquido amniotico un po' si riduce e questo vi darà la sensazione di avvertire i movimenti meno intensi. In realtà lo spazio è ridotto e quindi i movimenti vi sembreranno più attenuati, è del tutto normale. Quindi imparate a riconoscere i movimenti del bambino e a contarli. La seconda cosa a cui fare attenzione è il peso e la pressione arteriosa. Ricordate di monitorare per evitare che vi siano improvvisi inattesi aumenti e in questo vi saranno d'aiuto il ginecologo che vi segue e l'ostetrica di riferimento. La terza cosa è di continuare ad avere uno stile di vita adeguato e corretto con un'alimentazione basata sul consumo di frutta, verdura, pesce, noci, riducendo il consumo di carboidrati, pasta, pane, prediligendo tra i condimenti l'olio extravergine di oliva. Riguardo l'attività fisica vi consigliamo lunghe passeggiate e di prediligere quello che preferite. Se fate nuoto, nuoto. Se fate pilates, pilates. Ricordate mamme a termini di gravidanza, controllate i movimenti del bambino, il vostro peso, la vostra pressione, mantenete uno stile di vita regolare e corretto con una buona alimentazione e attività fisica e questo vi aiuterà ad arrivare più sereni al parto. Grazie a tutti.